Ecco la mia vicina Pocahontas, che ti vuoi mangiare? Fa caldo, fammi i pomodori con il riso Guarda non c'avevo il casalino e te lo sono andato a comprare perché si fa con questi Iniziamo col tagliare il cappello del pomodoro Che non si butta ovviamente La polpa la svuotiamo in un contenitore So come si faceva una volta Tutto nel passaverdure Questa ricetta non si butta niente Aggiungiamo la passata Tanto basilico spezzettato con le mani Spicchietto di aglio grattato Ah bello questo è il limone in ceprova Se usa a mia nonna mi ammazza Pepe, sale, tanto olio perché questa è una ricetta dietetica E adesso due cucchiai di riso per ogni pomodoro Usate il far boiled E adesso riempiamo Quello che avanza in questa teglia che c'ha a cent'anni Pomodori dentro, coperchietti E mo come dissi una volta Carlo Cracco direbbe non si mischiano duamidi Ma a mia nonna si Quindi patate dentro 180 gradi per un'ora E guarda che spettacolo 10 e lode Fammi sapere cosa puoi vedere nella prossima ricetta Grazie a tutti Grazie a tutti